Benvenuti a Timpani! Benvenuti a Timpani! Tutti i linguaggi, buongiorno! Posso aiutarti? Timpani è serolanguistica. Esatto? Timpani? Buongiorno, buongiorno. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Buongiorno a tutti! Buongiorno a tutti! Buongiorno a Timpani Italia! E questa è la nostra bruscia. Dentro troverai anche tutti i nostri contatti. Buongiorno a tutti! 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 E se vincere la pivio, potremmo potremmo in la video! E se vincere la pivio a tutti! E su Facebook! Like us! Credo che la nostra bruscia è la risulta di nostre esperienze in diverse paesi. Sono andata in scuola, spagnia e in guatemala. E dopo, ho uscita l'online marketing in Montreal. Ma stata laione in Pia количество in Texas, quando ho 15 anni è stata così, la più impacta di tutto. E poi, dal momento, l'online marketing a newa ma l'occhi, creando un amicino newa. E anche, ho espaciuto attraversato come volesse dall'amparature di l'amparature. Se mi prima della spagnia in Montreal, è interessante! Non solo ho uscato un nuovo idiomani, ma ho anche riorevo unità! Later, I worked for a company in Montreal where we all came from different countries and we always had interest discussions. It became my dream to create own international company. It is important not only to learn languages, but also to understand different cultures. And it can be learned only by going abroad. We therefore encourage everybody to go abroad to see a new world. To go abroad to learn how to go abroad to see a new world.